Safegate Pro, igienizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza, sempre e ovunque. Visita il nostro sito, safegatepro.com Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con il meteo di TV6. Aria piuttosto fredda di origine artica e in movimento verso il Mediterraneo arriverà sulla nostra penisola nel corso di questo sabato dando vita a una depressione particolarmente turbolenta e fredda che favorirà il ritorno del maltempo e anche della neve fino a quote piuttosto basse allo centro e allo sud. In Abruzzo, tempo molto perturbato per quasi tutta la giornata. Abbiamo precipitazioni diffuse e nevicate da prima oltre 1000 metri tra la notte e le prime ore del mattino poi fiocchi che scenderanno rapidamente di quota fino a portarsi sulla bassa collina attorno ai 200-300 metri, specie sul Terramano e sull'Aquilano. Nevicate che saranno abbondanti oltre gli 800-1000 metri con accumuli oltre i 30-40 centimetri. Piogge sulle coste con possibilità di momentane fioccate attorno ai 100 metri di altitudine. Le temperature in marcato calo massime non oltre i 5-6 gradi lungo le coste è molto freddo da pieno inverno nelle aree interne. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. SafeGate Pro Igenizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza sempre e ovunque. Visite il nostro sito www.safegatepro.com